amma buonasera stai sponsorizzando la pepsi si proprio diciamo sta cosa che già poi cominciano io ti dicono stai sponsorizzando la pepsi e va bene io posso gli altri chi scrive no scelto perché tu sei un influencer scelto tu puoi ma non so c'ho scelto puoi essere loro possono non lo so puotono buona cena ragazzi con questo tonnetto fritto con cipolla e aceto veramente si chiama palammito lo stavo dicendo il palammito non è sanuso è diverso sanuso è più scuro posso dire io cosa ci metto insieme a sto palammito così mi bacchiettano e mi criticano per tutta la sera si no no voglio fare la pubblicità anche io tu alla pepsi io già faccio la craft ci metto la maionese sopra sto pesce ora cipolla e aceto la maionese va bene ora ditemi che non ci sta la maionese al solito scelto magari un contornino di peperoni il peperone quello lungo ma proprio da molto lì fa ma ma anche la risa ci scendessi popolini si dice già è bollito si deve mangiare che c'ha anche un mando stomaco e a cinzia una bottiglia acqua e cinzia è partita dove è andata alle sorgive per prendersi l'acqua boh che ne sa ciò con un po' ah lei si fa le vacanze nel scelto ma è fissata è fissata quest'acqua buona scena guarda mi ricordo stasera live alle 22 su titolo per festeggiare un anno dei morti di fame un anno scelto buona scena buona scena io ci metto maionese no piscicetto avanti criticatemi vi amo vi amo